Mitici e mitiche, ritorniamo su questo... Mitici e mitiche, ritorniamo su questo gioco incredibile, allora, l'obelisco dello spirito ha sempre attratto un sacco di stolti ingenui. Diciamo che dobbiamo un po'... Ah, proprio, vuoi subito venire, eh? Subito venire lui, eh? Lui ha voluto subito dar legge, dettare legge, eh? Orca! Eeeh, il male, il male! Andiamo a rifar fuori un po' questo qui, hm? Che è l'unico, alla fine, vivo, umano, e non reagisce neanche il nostro... Ah, sono belli i tosti, eh? Eh, uno solo, eh? Oh, e cominciamo, cominciamo a ragionare, eh? Oh, eccovi, vieni qua! Orca, quelli stavano passando da sopra! Oh, sì! E dai una sparata, oh! Allora, l'ha preso lui? Ah, cacchio! Io ho pulo lì, eh, perchè... Eh, me lo stanno tirando giù, mi chiamate, eh? Eh, dagli una sparata! Allora, se riusciamo a tirarlo giù... Ah, potevo ammazzare quello nero, eh? Ah, da dietro, ah, è dietro! No, ho sbagliato! Ah, che bello! Porca! Non posso più curare nessuno, eh? Un po' un po' mi ha fatto male, eh? Questo è l'obelisco dello spirito, la sua base, gli antichi hanno inciso un messaggio... Uno spirito, ok... Allora, la porta, secondo me, è l'ultimo, eh? Un imbecillo ha voluto sapere di farci uno sconto sulla merce, l'avevisto da lezza di smidollato, ci costava farci uno sconto del 20%? No, allora la pagherei sicuramente cara! Ah, 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 cioè... Orca! Orca! Tanti... Eh... Bravo, bravo! And now... ya... Assi... Ele... Harry... He... Io... Tsai... Mama... Like... as Bravo! Pioccia di fuoco! Adesso appunto come! Viva sopra! A ver... Ci sta! In realtà anche quello ci stava! Anche! Grazie a tutti. No. 5 e 3, dai ci sta. Oh. Oh. Resistenza ai pacchi magici. Assolutamente. La mia è la miglior merca di tutto il regno. Non troverete niente del genere su un'altra parte. Ecco perché facciamo i sconti. Ok. Ah. Wow. Wow. Wow direi. Oh. 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 ah subito lui subito lui e sono due e potrei fare un po' di più oh 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 mmmm oh no mi piace questo ok andato dai niente ok ai 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 prendermi la guaritrice ok ok allora dovrei curare ah dovete attaccarmi lo sapevo lo sapevo lo sapevo lo sapevo ah Ah Cattivo 6, 2, 1, 3, si pagherò parecchio c'è anche questo per poterlo far giù degli assassini potete correre quanto vi pare presto o poi li appagherete 2 guarda lì dai è venuto ad attaccarmi oh eh è tosto questo raga guarda chi è è guardali guarda che mi prendono tutti le mie difese da dietro caspita a si ma da dietro dovrebbe colpire molto di più ok bravo, oh soldini ancora adesso Kipo volò nooo E' sempre quello che mi prende E' sempre quello che mi prende E' una possibilità di... Caspita i costi eh! Tosto, tosto, tosto... Eeeh non è ancora morto! Voi a morire! Guarda lì che roba! Caspita! 12, 13, 7! Marca loca! 500! Siamo costretti a lavorare in fabbrica e ogni giorno della notte le guardie e le scrivo portando tutti i schiavi! Ci sono i confrontini originali! Mi intendo che sarei sicuro! Sembrando un versito più grande! Dobbiamo fermarlo! E quindi? E quindi? Ho aumentato tutto! Non ho molto eh! E se questo fosse... La fine? Ecco che arrivano! Sporchi pastori delle pianure! Siete infine giunti dinanzi alle mura! Ora scoprirete finalmente contro chi vi siete messi! L'impero delle montagne non era che un mito! Un ricordo passato! Questo finché il mio mago di corte, Arachin, non vi venne questa antica maschera di ghiaccio! Ecco! Essa mi ha conferito poteri immaginabili e mi ha reso immortale! E poi non posso essere sconfitto! Scappiamo! Dobbiamo andarcene! No! Questa è l'unica nostra opportunità di pareggiare i conti! E direi ancora eh! Speriamo! Ecco il cagnolo mi sembra! Eccola la! Eccola! E vabbè dai anche! Certo! Vabbè! E uno alla! questo veleno e ancora dai basta questo veleno basta 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 dai una bella allineata oh cacchio allora devo devo guarire la donna ahia ahahahah cacchio sto arrivando sto arrivando caro eroe guarda lì ora se avessi 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 No Mi hai ammazzato Guarda che scapa Oh questo mi fa Cattivo l'arciere E' così Grandissimo Io non può essere Sto morendo Ma ciò significa anche Che sollievo questa maschera Tutto quello che il tempo faceva Impazzire Come ho potuto essere tanto sciocco Ma ora è tutto finito Mi avete liberato E posso abbonare questo mondo In pace per riunirvi Quei miei antenati Nel al di là E' finita Missione compiuta La strada verso casa Sarà molto lunga Forse farò meglio A starcene qui E' una decisione che aspetta a te Mio signore Ma per il momento Non preoccuparti D'altro si festeggia La tua vittoria E si amici miei Abbiamo completato Il guerriero del regno E adesso bisogna Scegliere Il secondo capitolo Diana studia magia Per dieci anni D'accademia di magia Infine L'ultimo giorno di studio Seguite il consiglio Profile Vi ha dato Diana un bastone Del mago Ah è una maga lei Doveva ancora Guadagnarsi il titolo Di mago Superando la prova finale Wow raga L'ultima prova Solo a me Hanno permesso Di recalmi Nella grande biblioteca Non si avevano notizie Di quella zona A molto tempo Non preoccuparti Ho seguito Attentamente le lezioni Ciao Ma perché hai messo Quella polvere addosso Il professore Non lo so Non lo so Forse i sagli Ci aiutano Con i nostri studi Va bene Meglio andare Apprendisti Bellissimo Bellissimo Allora Amici e amiche Continuiamo L'avventura Di Brave Land Con la nostra Nuova eroina Al prossimo Al prossimo Capitolo Di questa avventura Io vi ringrazio Per aver guardato La serie Brave Land Di questo gioco Che secondo me Merita Tantissimo E vi consiglio Di seguirvi Sì Sia su YouTube Qui sul canale Mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Iscrivetevi 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 E seconda cosa Io vi ringrazio Se mi seguite Su Twitch Il grandissimo Il grandissimo Twitch Marco Drums Games Anche su Twitch Ok ragazzi Diciamo che Potete anche Seguirmi Sui social Su Facebook Instagram TikTok Twitter E Discord E Discord Quindi se seguite Il mio canale Tutto quello che facciamo Ragazzi Io vi ringrazio Tantissimo Ciao amici Alla prossima Mitici e mitiche Brave Land Marco Drums Games Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti